buongiorno da fatina birichina e è il primo dicembre e noi quest'anno abbiamo preso il calendario dell'avvento kinder è un calendario dell'avvento che si chiude al libro fai vedere spinghi gira eccolo qua guardate che bello calendario da tavola giriamo e ci dice che ci sono 11 di queste con le noccioline poi ce ne sono 11 di questi senza noccioline e due a forma di uovo eccoli qui adesso andiamo aprire quindi il numero uno usate la voce ma ieri abbiamo preso freddo perché siamo andate alle giostre e c'era davvero freddo 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 e apriamo allora il numero uno che è qua vai spinghi abbiamo trovato questo qual è l'ovetto sì infatti dalla foto non si capiva bene quindi ci sono 11 ovetti questo sarà quello con le noccioline vabbè adesso fra un attimo tanto facciamo colazione poi lo apriamo scopriremo se questi ovetti sono quelli con le noccioline aprite anche voi mi raccomando i vostri calendari dell'avvento incomincia il mese di dicembre il natale ormai è alle porte e noi vi aspettiamo con tante tante novità ciao a tutti da fatima pericchina e spingi picchio ciao